Manca l'ultimo appuntamento, poi sarà rompete le righe. Si avvicina la sfida di La Spezia, ma per il Napoli è già lavoro sui rinovi. Quello di Dries Mertens appare di nuovo lontano e occhio al futuro di Khalidou Koulibaly. A margine dell'evento Race for the Cure, Aurelio De Laurentiis ha sottolineato il valore del giocatore e il ruolo da leader, ma ha anche aggiunto, tocca a lui decidere. Koulibaly è un simbolo del Napoli e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. C'è il Barcellona sul difensore. I prossimi giorni saranno decisivi non solo per Koulibaly. Víctor Simen piace ai top team europei, anche dopo due stagioni condizionate dagli infortuni. Non è che ha giocato tutte le partite del campionato, quindi dare dei giudizi su un calciatore è sempre, secondo me, poco opportuno. Perché ogni campionato è diverso, perché ogni squadra si modifica nel corso della preparazione del campionato futuro. Quindi è sempre un'incognita. E poi quello che voi dovete sempre mettere sul campo è anche il lato psicologico.